Benvenuti al nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni, oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'assessore alla gestione del territorio del comune di Feltre, Adis Zatta. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Partiamo subito con lo specificare gestione del territorio, comprende i lavori pubblici, comprende le manutenzioni, la protezione civile, i rapporti con le frazioni, quindi tutti gli assessorati che un po' sono stati sollecitati in questo periodo qua ad esempio col coronavirus. Esattamente e a proposito appunto della gestione del coronavirus a Feltre insomma avete dovuto affrontare anche questa... Diciamo che noi ci siamo attivati sin da subito e su questo mi viene da dire che è un po' la tendenza anche del nord est, noi siamo riusciti a dare le prime risposte probabilmente qualche giorno dopo l'istituzione del lockdown, ma cosa vuol dire in queste fasi qua dare la risposta? È stata una risposta alla cittadinanza completamente differente ad esempio per la gestione di vaia, in senso in questo caso qui noi abbiamo attivato il COC si da subito, il COC è il centro operativo comunale, è da dove diciamo si gestiscono le emergenze e quindi si gestisce anche gli aiuti alla popolazione, in questo caso qua più che altro l'aiuto andava verso il supporto alla popolazione, supporto di che natura? Di svariate nature, c'era chi per il lockdown ha perso il lavoro e quindi di colpo è mancata una fonte di reddito, c'è chi per la mancanza degli spostamenti non riusciva più ad approvvigionarsi, quindi alimenti ma medicine e quant'altro, c'era la partita legata alla gestione dei rifiuti, in alcuni casi avevamo degli alimenti con positività al coronavirus quindi scattava tutta la procedura ai rifiuti, ma una serie di altre fattispecie che siamo riusciti a gestire solo grazie all'aiuto di tutti i volontari, ma mi viene da dire di tutta la comunità, in senso la partita ad esempio della gestione delle mascherine, del conferire le mascherine a casa eccetera, quindi sicuramente il contributo fondamentale dei volontari organizzati, quindi di protezione civile, ma anche i singoli cittadini, io credo che ancora una volta, e l'abbiamo dimostrato, essere una comunità vuol proprio dire non lasciare indietro nessuno, cercare di aiutare il prossimo, quindi noi abbiamo chiuso il COC la settimana scorsa, il venerdì, l'abbiamo tenuto aperto 93 giorni mi sembra, quindi già l'altra volta con la gestione di VAIA l'avevamo tenuto aperto consecutivamente 28 giorni, non ci sembrava un'eternità, questa volta abbiamo triplicato quasi 100 giorni, insomma, e devo dire che questo ovviamente cambia completamente l'organizzazione e la gestione all'interno degli uffici comunali e quindi ci sono delle ripercussioni dirette sulla capacità del Comune di erogare altre tipologie di servizi che gioco forza vengono accantonate per delle altre esigenze che sono prioritarie. Appunto la gestione è sia dell'emergenza ma anche un po' forse dei servizi e delle dinamiche poi sociali, con VAIA si è vista sicuramente molta paura, in questo caso forse c'era invece un po' più di nervosismo? Sì, diciamo anche in questo caso qui, quello che osservo io ad esempio nella risposta ai cittadini verso i miei assessorati è che in una prima fase c'è una fase di compressione, c'è quindi tutta una dinamica nazionale dove ci sentiamo tutti partecipi di questo sacrificio di non muoversi di casa, però pian piano che passa il tempo cresce questo sentimento piuttosto di rabbia di non accettare più la segregazione in casa, quindi questo comportamento poi di rabbia si tramuta in un cercare un colpevole e spesso il colpevole è di nuovo l'amministrazione comunale che è la stessa che è impegnata invece nell'erogazione dei servizi e quindi questo io lo vedo nell'acuire di problematiche che magari prima erano un po' scese, non so, l'attenzione al decoro urbano, cioè magari uno rimane chiuso in casa per tanto tempo, esce di casa e si trova un paesaggio e se lo vorrebbe ritrovare magari più in ordine ma tu non sei riuscito a metterlo in ordine proprio perché le stesse forze le hai usate per fare altre cose, no? E quindi bisognerebbe riuscire a spiegare ai cittadini e questo bisognerebbe fare uno sforzo di comunicazione che magari in tempi di crisi si sacrifica anche per spiegare che ovviamente le programmazioni fatte in tempo di pace si dice sono completamente saltate e su questo ovviamente ci sono delle ripercussioni dirette anche sulle politiche dei lavori pubblici che fanno sempre capo ai miei estorati dove ovviamente sono completamente cambiate le condizioni del contorno. Non dimentichiamoci che in alcuni fasi addirittura le dite non potevano lavorare. E poi anche per la gestione anche degli operai del comune magari può essere a volte un problema. Mi ricordo qualche giorno fa Zaia diceva riapriamo i parchi se i comuni sono e quando i comuni sono in condizione di farlo. Eh infatti magari noi siamo sempre concentrati a vedere i provvedimenti che sono presi a livello governativo piuttosto che a livello regionale e ci dimentichiamo forse che l'ultimo miglio diciamo lo portano avanti esattamente i comuni. Allora dire che riapriamo i parchi se il comune è in condizione di igienizzare, sanificare, controllare è una cosa molto impegnativa in senso che poi alla fine non nascondiamoci le risorse economiche e di personale sono sempre le stesse. Allora a un certo punto bisogna scegliere se usiamo il personale per tagliare i cigli d'erba o portare a casa le mascherine o igienizzare i parchi giochi. Quindi a un certo punto bisogna scegliere il compromesso e portare a casa il risultato più utile alla collettività. Non nascondo in alcuni casi i provvedimenti sono stati di difficile applicazione per i comuni perché non si può pretendere ad esempio per una città come Feltre che pure è una cittadina piccola rispetto ad altre città che però magari ha una decina, una quindicina di parchi di mettere un presidio fisso che controlla gli accessi ai parchi è una cosa impensabile. Tra l'altro a Feltre è successa una cosa che raramente succede ovvero maggioranza e minoranza vi hanno chiesto poi di portare avanti tutta una serie di azioni. Beh su questo secondo me di nuovo come la cittadinanza ha dimostrato di essere una grande comunità la stessa parte politica sia essa di maggioranza e minoranza alla fine si è seduta su un tavolo e ha messo nero su bianco delle misure che andavano a supportare la popolazione, le attività produttive senza, mi permetto di dire, colori politici. Quindi là a un certo punto è stato fatto un grossissimo lavoro di convergenza alla fine siamo tutti sulla stessa barca però bisogna cercare di uscirne tutti insieme e quindi il documento che è stato presentato poi in consiglio comunale nell'ultima seduta e votato con una mità ha trovato la condivisione piena di tutte le forze politiche. E poi avete anche la vostra programmazione, i vostri cantieri che stanno venendo avanti a Feltre ce n'è molti già aperti. Su questo infatti noi avevamo un programma molto ambizioso di realizzazioni, di investimenti in ambito lavori pubblici. Come dico sempre io in consiglio comunale, io ho la fortuna di spiegare la programmazione dei lavori pubblici perché sono assessore dei lavori pubblici ma ovviamente la programmazione rispecchia il lavoro della squadra, di tutti gli assessori. Avevamo una serie di progettualità già in essere che gioco a forza abbiamo dovuto stoppare per il coronavirus ma avevamo un grosso lavoro pianificatorio di programmazione fatto prima che adesso è pronto a partire. Mi viene da dire che grazie alla professionalità dei nostri uffici siamo anche riusciti in alcuni casi a riprogrammare al volo l'esecuzione dei lavori, mi rispiego meglio, prima magari avevamo dei cantieri pronti a partire che dovevano lavorare su delle scuole, sapevamo che dovevamo attendere la fine della scuola, adesso il film è completamente cambiato, dovevamo partire con i lavori quanto prima ma magari avevamo il fermo delle ditte perché non potevano lavorare e dobbiamo cercare di fare i lavori quanto prima perché ricominci la scuola, oppure mi viene da pensare sull'impiantistica sportiva e questa è un'esigenza che è uscita anche durante il lockdown, quanto bisogno c'è per la popolazione che ci sia una valvola di sfogo dove poter fare sport all'aria aperta o avere l'impiantistica sportiva all'altezza di una città e quindi su questo ad esempio due cantieri importanti che stanno partendo, il cantiere al paraghiaccio da una parte, il cantiere per il rifacimento della pista d'atletica dall'altro dove anche qui i vincoli erano completamente diversi in tempi di pace, quindi ad esempio per la pista d'atletica dovevamo aspettare la fine del campione del calcio, dovevamo aspettare l'esecuzione di un importante meeting di atletica leggera, adesso che sono saltati tutti, il vincolo, la condizione al contorno è di accelerare quanto prima e su questo di nuovo ringrazio gli uffici, siamo riusciti a partire con i lavori ieri, quindi un mese in anticipo per il rifacimento della pista e la necessità ora è di consegnare l'impianto quanto prima appunto per consentire a tutti i cittadini di fruire degli spazi pubblici e di fare attività. Un altro progetto che state portando avanti, quello del teatro della Sena che è un cantiere enorme, cioè è durato veramente molti anni. Ovviamente diciamo tutta la quota parte di lavori pubblici che insiste nel centro storico ha un obiettivo ben preciso che è quello di completare il rilancio del centro storico e sta inallando una serie di cantieri che vanno verso la riqualificazione del nostro parco musei e teatri, quindi il teatro della Sena da una parte ma anche i musei dall'altra parte e quindi la città di Feltre vuole farsi trovare pronta alla riappertura ai flussi turistici con un'offerta molto di qualità, molto migliorata, cresciuta, ma anche di nuovo abbiamo bisogno di portare a termine questi cantieri che sono cantieri molto importanti, il caso del teatro è un cantiere da 2 milioni di euro in centro storico, quindi anche con tutte le difficoltà dell'accessibilità, della fruizione in sicurezza dei cantieri, della gestione delle manifestazioni e quant'altro, ma siamo determinati a portarli a termine e di nuovo credo che come assessorato ai lavori pubblici, ma come assessorato alla cultura, eccetera, ne uscirà una città molto migliorata, molto più attrattiva dal punto di vista turistico e molto più interessante da visitare. E poi insomma anche, sta venendo appunto, parlavamo di musei, sta venendo avanti il progetto del museo archeologico, quello è un altro cantiere. Sì, sì, dicevo velocemente prima perché non sono magari la persona più proposta, perché sono magari meno preparato dal vice sindaco, però sì, tutta la partita del museo civico archeologico, ma anche tutta la partita del rinnovamento della Galleria Rizzarda con la collezione di vetri Nassi-Franzoia, praticamente andrà a creare un circolo di musei veramente all'altezza per una città come Feltri, ma forse anche per un rango superiore. Insomma abbiamo visto quindi molti i cantieri concentrati nel centro storico, però poi c'è un po' tutto il territorio a cui state guardando, ce ne sono anche... Ma infatti nei miei assessorati, io molto orgogliosamente anche ricopro l'assessorato che si chiama Rapporti con le frazioni, perché non dimentichiamo che la città come la città di Feltri ha 20 frazioni intorno, no? E in alcuni casi essere capaci di riuscire ad arrivare con politiche manutentive anche nelle frazioni è importante perché spesso invece i grandi progetti sono al centro cittadino. Di nuovo su questo però cos'è che registriamo? Registriamo che con il lockdown e quindi con tutte le modifiche della pianificazione legate alla gestione del coronavirus, gioco forza, siamo un attimino in ritardo. Su questo ovviamente non è colpa di nessuno e noi anzi stiamo progressivamente investendo sempre più risorse nelle politiche manutentive, però di nuovo se siamo impegnati da una parte non arriviamo più dall'altra. Da questo punto di vista lo sforzo secondo me comunicativo è di non cercare scuse, ovviamente se arriviamo un po' dopo arriviamo un po' dopo, dobbiamo arrivarci, ma lo sforzo secondo me è di far comprendere ai cittadini che, come dire, siamo tutti sulla stessa barca alla fine, quindi come dire, l'intenzione dell'amministrazione è quella di proseguire con politiche manutentive fattive anche nelle frazioni e contiamo che nei prossimi anni anche accelereremo ancora di più. Diciamo che sicuramente in questo periodo saranno soddisfatti i cittadini di Villaga perché c'è questo cantiere molto... Ah beh, da questo punto di vista qua registro la collaborazione fattiva con l'ente provincia e quindi i ringraziamenti vanno ovviamente dalla parte politica ma soprattutto anche i tecnici della difesa del suolo. Siamo riusciti insieme a portare a termine un'importante progettualità che sta appartendo in questi giorni qua. Non vi nascondo che come assessorato alla protezione civile abbiamo passato dei brutti momenti, il senso che dal 2012 quando siamo arrivati al governo della città abbiamo avuto più di un episodio anche spaventoso dove abbiamo dovuto evacuare nuclei familiari, dove abbiamo avuto fenomeni importanti di colati di retriti con massi ciclofici che arrivavano a ridosso delle case, quindi era un impegno preciso di messa in sicurezza dell'abitato che ci eravamo presi come politica diciamo a tutti gli ordini di livello e che quindi è un importante segnale anche qua di maturità, anche lì non si sono guardati i colori politici, c'era un problema da risolvere e tutti insieme siamo arrivati alla risoluzione, o meglio il cantiere non è ancora partito a parte questi giorni ma come dire adesso non si torna più indietro insomma. Il POSVAIA è finito o no? Allora il POSVAIA è dire che è finito è sbagliato in senso che come abbiamo detto noi siamo stati sicuramente uno dei territori più colpiti in ambito urbano, ricordo tutti oltre 20 milioni di euro di danni, su questo noi abbiamo fatto un grossissimo lavoro e dopo adesso ci sembra che sia finito perché è arrivato il coronavirus, in realtà le lavorazioni a fare sono ancora molte e come ricordo sempre noi magari abbiamo meno fenomeni eclatanti rispetto a Roccapietro per dire abbiamo avuto magari meno fenomeni di schianto di foresta classica però abbiamo avuto un sacco di problemi nel tessuto urbano e quindi con edifici dannezzati, con perdita di ecosistema urbano e quindi su questo non siamo ancora arrivati a ripristino. Ovviamente tanto è stato fatto, alcuni cantieri importanti sono stati chiusi ma siamo lungi da arrivare alla fine insomma. E poi mi ricordo che dicevate eravamo molto pronti per una grande quantità d'acqua e il vento invece c'è un po' Sicuramente se dobbiamo tornare indietro alla gestione di vaia la funziona così, funziona che noi abbiamo sempre cercato di tenere alto la pianificazione in ambito protezione civile rivoltando la struttura, cercando di avere sempre un occhio di riguardo, ambendo a essere una città resiliente, cercando di condividere le unioni frazionali con i cittadini, non nascondendosi di fronte al fatto che siamo una città che è sottoposta dei rischi naturali sia di natura idrogeologica sia di natura sismica, ovviamente non avevamo mai toccato con mano il rischio da vento. Allora su questo come dire, per fortuna che quella volta lì proprio su Villaga avevamo adottato delle misure di precauzione, quindi avevamo evacuato dei nuclei familiari, per fortuna in alcuni nuclei familiari non c'erano più le persone perché non è arrivata l'acqua come si aspettava ma è arrivato il vento e sappiamo che l'abitato di Villaga è stato uno degli abitati più colpiti proprio a livello di danni sugli edifici privati con praticamente tetti di velti e quant'altro. Noi come quota parte di patrimonio pubblico abbiamo a nostra volta subito molti danni, alcuni li abbiamo riparati al caso i magazzini comunali, il marcello compressoriale ma altri sono ancora lì, è il caso ad esempio delle caserme Zanetelli e quindi come dire, dire che il pistino un po' sbaglia è finito, anzi secondo me siamo arrivati a un 30-40%. Diciamo che sono stati colpiti anche poi due punti nevralgici per la gestione dell'emergenza perché ai magazzini comunali poi c'è il cuore pulsante della protezione civile alla Zanetelli, cioè l'ANA. Sì infatti sulla Zanetelli ovviamente il compendio è molto ampio, noi però avevamo fatto già delle scelte strategiche che era quello di inserire i volontari di protezione civile dell'ANA in questo caso nella parte nord del compendio, stavamo proprio facendo i passi per provare a insediare i volontari quando è arrivato Vaia. Nel post Vaia abbiamo dato un'accelerata a sto percorso e non nascondo durante tutta la gestione del coronavirus quel polmone ci è servito molto come logistica ma in realtà abbiamo sperimentato anche nell'esercitazione post Vaia della fine del 2019 quel sito si presta per posizione ma anche per baricentricità a essere un polo logistico di protezione civile per un territorio che è molto più ampio del Feltrino e questo è stato riconosciuto anche a livello regionale e quindi secondo me bisognerebbe fare lo sforzo di fare degli investimenti e portare quel centro a essere un riferimento non dico a livello regionale ma sicuramente a livello comunale e provinciale Abbiamo parlato quindi di due grandi emergenze l'emergenza Vaia e l'emergenza coronavirus distanti per tipo di problema ma simili in alcune caratteristiche di gestione Purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito ringraziamo l'assessore Zat per essere stato con noi Grazie a voi e grazie per l'invito Buona serata quindi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti